Non è stato rispondato ancora, però in realtà è ben verificato, perché non è che gli altri elementi che sono conosciuti, sono le elementi ideologici, sono le elementi reali, le età, sono i suoi, ma ci sono poi tutti i elementi vegetali, le reali, che in qualche modo vanno ad arricchire questa decorazione di questi elementi, questi elementi che si trasformano e sono i suoi, ma ci sono i suoi, ma ci sono i suoi, ma ci sono i suoi. Grazie. Grazie. Grazie.